Ben trovati, in questo video faremo un veloce ripassino di tutti i profili di rischio relativi alle posizioni semplici che possiamo aprire sui mercati finanziari, ovvero tutto ciò che presuppone l'utilizzo di un solo strumento per volta. Come noto, il mercato può fare tre cose, salire, scendere o rimanere fermo all'interno di un determinato range di prezzi per un determinato lasso di tempo. Quelli che vediamo qua sotto sono i sei più importanti e semplici profili di rischio che dobbiamo conoscere nel mondo dei derivati e che approfondiremo in corsi specifici. Le prime tre strategie in alto sono tutte strategie rialziste, long future, long call e short put. Invece le tre strategie in basso, short future, long put e short call, hanno tutte e tre lo stesso vantaggio che è dovuto ad un mercato ribassista. Le strategie fatte con i future o i titoli o le azioni, long o short che siano, hanno come principale vantaggio la semplicità di gestione. Infatti la perdita e il guadagno sono molto semplici da calcolare in quanto la loro peculiarità principale è la linearità. Un punto uguale un punto. Se il mercato sale di 500 punti guadagniamo 500 euro, se il mercato scende di 500 punti perdiamo 500 euro, ipotizzando l'ingresso long future. È semplice, giusto? Sono operazioni che consentono guadagni anche importanti, ma essendo lineari e speculari possono portare anche importanti perdite sul portafoglio. Per questo occorre sempre usare stop loss e take profit quando si adottano questi strumenti. Internet e il web è pieno di consigli su dove e come si posizionano gli stop loss e take profit. Il punto è che se si utilizzano stop e profit larghi si può perdere molto e si può guadagnare molto. Se si usano stop e profit stretti si viene spesso presi dalle oscillazioni del mercato e si perdono i grandi movimenti direzionali. Al contrario invece le opzioni sono strumenti non lineari, sono un po' più complesse da comprendere e da gestire e purtroppo la complessità spesso fa un po' paura. Ed ecco che allora parlare di derivati induce sempre qualche sospetto. Invece se uno le guarda per bene le cose, come possiamo infatti vedere, le long call e le long put hanno il principale vantaggio che non possono mai portare a grandi perdite in quanto il loro costo di apertura è predefinito. È un costo certo e determinabile e questo costo è il nostro massimo rischio al mercato. È un rischio che è teoricamente molto contenuto rispetto alla leva e dai profitti che questi strumenti sono in grado di generare. Sono operazioni e sono strumenti che hanno già uno stop loss implicito e ci consentono di rimanere in posizione anche se il mercato sta temporaneamente oscillando, ovvero in quelle fasi dove si va a prendere gli stop loss e butta fuori dal mercato tutti coloro che negoziano gli strumenti lineari come i future, gli ETF e le azioni. Tuttavia c'è da dire che il 90% delle opzioni scade senza valore. Il compratore incallito di opzioni rischia di accumulare piccole ma continue perdite sul proprio portafoglio, poiché non solo è necessario un movimento importante del sottostante nella direzione voluta, ma questo movimento deve avvenire entro una determinata data che è la data di scadenza del contratto stesso di opzioni. Questo comporta una riduzione ulteriore di probabilità di successo. Infatti le poche volte che si riesce a prendere profitto da una posizione che sia long call o long put, questo guadagno spesso ricompensa da tutte le piccole perdite e i guadagni possono essere molto elevati rispetto a quanto poco capitale abbiamo investito. Al contrario le posizioni short come la short call e la short put utilizzano come vantaggio il premio incassato per maturare appunto un vantaggio statistico che porterà il venditore per la maggior parte delle volte a trattenere tutto o gran parte del premio incassato, esattamente come fa la compagnia di assicurazione di un'auto. La compagnia assicuratrice incassa i premi e assicura contro gli incidenti, il problema però sono proprio gli incidenti, quando accadono la compagnia assicurativa deve pagare e la perdita si rimangia spesso i tantissimi premi incassati. I venditori di opzioni infatti hanno gli stessi problemi, rischi di perdita di una posizione in future ma con entità di guadagno che sono molto più basse in quanto non superano mai il premio incassato. L'utilizzo individuale di questi strumenti implica a questo punto abbiamo visto dei vantaggi e degli svantaggi, non c'è uno strumento che di fatto possiamo considerare il migliore di tutti. Se si vuole guadagnare molto purtroppo tocca rischiare molto e si utilizzano i future e gli strumenti lineari in genere. Se si vuole guadagnare in modo continuativo incassando poco alla volta si può essere venditore di opzioni ma ci si espone a quello che è il rischio degli strumenti lineari se il mercato gira dalla parte sbagliata. Se invece abbiamo timori e vogliamo rischiare molto poco la miglior scelta potrebbe essere l'acquisto di opzioni che però abbiamo visto che è statisticamente e frequentemente perdente anche se le poche volte che va in guadagno porta guadagni importanti proprio per il fatto che con una piccola spesa si può avere la stessa forza di profitto degli strumenti lineari. Come fare dunque? Una soluzione potrebbe essere creare delle combinazioni fra opzioni e opzioni future in modo che si possa mettere d'accordo le tante caratteristiche di rischio e rendimento degli strumenti che abbiamo appena analizzato. Questo apre tante strade che arrivano ad essere contemporaneamente meno rischiose e spesso maggiormente profittevoli e permettono soprattutto a chi le sa padroneggiare di riuscire a premere l'acceleratore quando la strada è diritta ed usare il freno quando la strada inizia ad essere tortuosa e difficile riuscendo infatti ad assecondare il mercato. Ricordiamocelo sempre comunque il mercato non regala mai niente a nessuno. La conoscenza, un pizzico di fortuna e la sapiente gestione di un portafoglio possono però portare a degli ottimi e duraturi risultati. Grazie per l'ascolto, al prossimo video. Grazie per l'ascolto, al prossimo video.